carissimi pogonotomaniaci bentornati bentrovati sul canale di pogonotomania questa sera video recensione del rex ambassador allora come probabilmente tutti o penso quasi tutti saprete uno dei miei più grandi desideri era acquistare il rex envoy vale a dire lo stesso modello di rasoio ma non regolabile beh degli amici che non oserei definire del canale ma degli amici di andrea tarenzi hanno provveduto a regalarmi per il mio compleanno questo splendido attrezzo questo splendido strumento per chi si fosse perso in retroscena delle vicende succedute perché io sul canale di sbarba l'ultima che abbiamo fatto io dario e bruno intitolata un unboxing particolare o qualcosa del genere dove vi verranno spiegati tutti i retroscena pazzeschi per farmi arrivare questo splendido rasoio ma veniamo alla nostra recensione allora sinceramente ci sarebbe veramente veramente poco da dire potrei concludere il video dicendo macchina perfetta strumento eccezionale sia a livello funzionale sia a livello di qualità costruttiva potrei darvi qualche informazione sul dimensionamento quindi l'aspetto puramente tecnico del rasoio e concludere il video perché è veramente una macchina perfetta ma sono andato come mio solito un pochino oltre mi piace studiare il funzionamento di queste macchine e quindi vedremo cosa di particolare rispetto ad esempio a un altro regolabile più conosciuto vale a dire il mercur progress allora partiamo dal rasoio in sé partiamo dal dimensionamento è uno strumento che pesa 106 grammi è lungo 88 mm e ha una testa mamma mia veramente splendidamente costruita dimensionamento lunghezza scusate lunghezza 44 millimetri larghezza 25 un'altezza variabile fra gli 8 e i 9 mm perché appunto trattasi di un regolabile e cos'ha di particolare questo strumento intanto un grip del manico veramente invidiabile un grip diamantato ma non sfuggia questa sensazione di sicurezza nemmeno il nottolino che sta alla base e neppure la ghiera di regolazione vediamo come è fatto è uno strumento due pezzi quindi svitando il nottolino che non casca viene liberata la struttura copri la metta e viene così posta in evidenza la base porta la metta e la barra di sicurezza del rasoio con gli ampi canali di scolo anche qui possiamo vedere l'elevata ma veramente elevata qualità costruttiva dello stesso e per capire la differenza rispetto per esempio al mercur progress dobbiamo fare proprio un confronto intanto a livello costruttivo questo è un rasoio in acciaio marino quindi 316 l io vi dico la verità ho provato a smontarlo l'unico elemento che sono riuscito a togliere era ed è il nottolino che sta alla base il resto della componentistica ho desistito mi sono rifiutato perché il rasoio si opponeva al disassemblaggio quindi è una macchina nuova ho lasciato perdere abbiate pazienza anche la casa costruttrice sconsiglia di smontarlo spesso magari dopo qualche mese di utilizzo per una pulizia profonda è un'operazione alla quale ci si può affidare però ho deciso di lasciar perdere via magari fra fra un anno fra sei mesi proveremo a smontarlo e vedremo come fatto strutturalmente all'interno in ogni caso è un rasoio composto da ben dieci parti quindi dieci elementi perfettamente interagenti fra di loro perfettamente costruiti tutti in acciaio a differenza per esempio del progress 500 che è sempre ottimo bellissimo rasoio però costruito in lega di zamak è composto da senz'altro un numero minore di elementi credo vado a memoria 5 ma adesso li contiamo insieme quindi abbiamo primo la struttura copri la metta poi abbiamo una base porta la metta che è questa struttura a t particolare dove c'è il triangolino di allineamento che è impossibile sganciare da tutto il corpo del rasoio quindi secondo elemento questa 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 struttura porta la metta terzo elemento una molla che sta all'interno quarto elemento la base ovviamente a barra di sicurezza vincolata al manico quinto elemento il nottolino di regolazione che si può smontare e ovviamente questo permette di procedere a una pulizia accurata dello strumento qual è il funzionamento di questo mercur progress come come funziona allora lo spiego ci tengo precisarlo per vedere poi le differenze rispetto alla rex ambassador abbiamo questa struttura atti che funge appunto da base porta la metta che viene spinta verso l'alto quindi viene spinta in questa direzione da una molla che sta all'interno tant'è che se io dovessi premere con le dita vedete che questa retrocede ma lo fa con una certa resistenza per via della molla posta all'interno del rasoio quando noi andiamo ad armare il mercur progress cosa facciamo inseriamo la lametta all'interno della struttura copri lametta dopo aver oh mamma non ci vedo dopo aver allineato spero di averlo azzeccato sì questa tacchettina con il triangolino sottostante possiamo procedere all'avvitamento del nottolino e che succede il nottolino richiama a sé la struttura copri lametta quindi questa arcuata e viene spinta verso il basso questa base porta lametta a t e quindi che succede la molla che sta all'interno viene compressa ok la struttura e la lama si avvicinano alla barra di sicurezza arriviamo alle regolazioni minime e il rasoio può essere utilizzato quali sono gli svantaggi di un serraggio del genere ammesso che di svantaggio si possa parlare durante l'azionamento della regolazione quindi spostando il rasoio verso gap più elevati quindi ipotizziamo che io voglia rendere più aggressivo il rasoio quindi allontanare la lama dalla barra di sicurezza la molla che sta all'interno si distende e tecnicamente più andiamo a rendere aggressivo il rasoio cioè più andiamo ad allontanare la lama dalla barra di sicurezza più la molla subirà una distensione e diventerà via via minore come forza di serraggio l'ancoraggio della lama al coprilametta quindi tecnicamente tecnicamente più andiamo a rendere aggressivo il rasoio più la lama verrà serrata sempre meno con un valore di forza sempre minori fino a un punto di sgancio totale oltre il quale adesso ci arriviamo eccolo qui la lama è perfettamente svincolata dal rasoio cosa succede con perdonatemi stacco un attimo dal video recupero la lametta eccola qui lametta vintage gialla cosa succede invece con il rex ambassador era un dubbio che mi ha assillato fin dall'inizio fin da quando ho visto per la prima volta il rasoio il mio dio il mio dubbio era ma nel momento in cui io vado a serrare la lama e vado a regolare l'incisività di taglio del rasoio sono sono operazioni che posso fare indipendentemente dal serraggio della lama stessa oppure devo smontare il nottolino andare a registrare ribloccare il tutto come caspita funziona questo rasoio vabbè dandogli un'occhiata attenta ho scoperto ho scoperto ho così percepito qual è la genialata meccanica di questo strumento andiamolo a vedere insieme perché funziona in maniera diametralmente opposta rispetto al progress che abbiamo visto anche se a prima vista può sembrare identico il meccanismo di funzionamento in realtà non è proprio così quindi svitando il nottolino si libera la struttura copri la lametta vado a inserire la lama all'interno qui non ho versi particolari non ci sono tacchette da allineare ma semplicemente basta inserire la struttura copri la lametta all'interno del rasoio e serrare il tutto ecco fatto a questo punto non ci sono molle in gioco ma la lama viene serrata all'interno della testa grazie all'azione meccanica di avvitamento del nottolino la lama da qui non si avrà più avrà sempre la medesima forza di serraggio indipendentemente dalle regolazioni in più guardate la finezza la testa il copri la lametta scanalato all'interno permette alla lama di piegarsi con un arco di circonferenza oserei dire perfetto che succede a questo punto durante la regolazione cosa ha di particolare questo rasoio intanto poi lo vedremo parliamo della regolazione parte da un valore di 0,5 la ghiera di regolazione fa un giro completo e vediamo che il selettore supera il 6 arriva 6,5 ritorna sull'uno quindi tecnicamente a 7,5 valori di regolazione qual è la genialata l'ho detto la molla non esiste all'interno della struttura copri la lametta questa viene serrata dalla dall'avvitamento del notolino e grossa differenza rispetto al progress è che quando noi andiamo ad aumentare il gap non è il copri la metta che si allontana dalla struttura del rasoio ma genialata pazzesca è la base dove troviamo la barra di sicurezza che scende oppure si alza quindi operazione di regolazione che può essere fatta tranquillamente senza doversi preoccupare di togliere il serraggio la lama riprendere il serraggio come ad esempio accadeva coi vecchi gillette a farfalla qui abbiamo la possibilità di andare a operare quindi influire sull'azione di taglio del rasoio senza ulteriori azioni aggiuntive altra particolarità e mi sono chiesto perché mai perché diavolo l'avessero fatto è questa struttura particolare rettangolare squadrata della base porta la metta e a prima vista mi sono chiesto ma abbiamo un copri la metta così ben arrotondato bellissimo perché non hanno smussato queste parti bastava un colpo di fresa sarebbe diventato tutto arrotondato e invece qui la particolarità la finezza se avessero arrotondato questa parte la lama magari impercettibilmente anzi senza magari sarebbe fuoriuscita dai lati della struttura copri la metta con questi angoli che magari avrebbero dato noia durante la rasatura invece con questa fuoriuscita così a modi parallelepipedo dalla base porta la metta ecco che i seppur piccolissimi angoli della lama che si sarebbero trovati esposti in realtà vengono coperti dalla struttura della testa e non danno nessun nessun problema durante la rasatura ribadisco ottimo grip senz'altro utilizzabile la ghiera di regolazione anche con mani insaponate mani bagnate ulteriore particolarità i numeri che riguardano le varie regolazioni non sono verniciati sopra ma sono incisi al laser quindi anche questo a riprova probabilmente di una durata di una macchina progettata per durare a vita cerco di togliere la lametta perdonate mia azione difficilissima col telefono dinanzi agli occhi cosa possiamo vedere ancora nella parte sottostante del rasoio troviamo la dicitura rex anche questa incisa al laser dalla parte opposta un codice alfanumerico che ci permette di risalire all'anno di produzione del rasoio ora non sono andato a vedere sinceramente come utilizzare questo questo codice per risalire all'anno di fabbricazione però avendo tempo si uno se lo va a vedere made in usa quindi eccolo di nuovo qui tutta la sua bellezza ecco l'unica cosa che mi sono preoccupato di fare quasi istantaneamente perché perdonatemi io sono sono malato in questo di andare a lubrificare un pochino la parte filettata e andando a lubrificare la parte filettata ho subito notato un miglioramento per quanto riguarda l'azione di serraggio a rasoio nuovo gli ultimi giri del nottolino erano un po' ostici un po' duretti con una lubrificazione di quella parte la lama si inserisce si serra all'interno dello strumento senza nessuna ostruzione senza nessuna preoccupazione quindi che dire è un rasoio perfetto non io sinceramente difetti non ne ho trovati forse uno dei pochi rasoi esenti da difetto veramente veramente ben fatto non mi resta che provarne l'utilizzo non aspettatevi subito un video di rasatura perché avendo così tante regolazioni quindi un numero infinitamente grande di possibilità preferisco prima provarlo privatamente per poi potervi dare notizie più certe più interessanti riguardanti il rasoio stesso abbiate pazienza quindi queste sono le mie considerazioni no dicevo abbiate pazienza nel senso che il video non termina qui per chi fosse interessato adesso mando in visione quello che sono i vari valori di gap in relazione ai valori di regolazione dello strumento stesso quindi carissimi queste sono le mie considerazioni su questo splendido rex ambassador io vi ringrazio per aver guardato il video un abbracione a tutti e ancora un immenso grazie agli amici che si sono disperati per farmi questo splendido regalo un saluto a tutti un abbraccione ciao da andrea e dal canale di pogonotomania ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti grazie a tutti